Ci troviamo al BIA Garden Store di Parma. Oggi parleremo di orto e quindi come nutrirlo con fertilizzanti e concimi prettamente naturali e come difenderlo da insetti e funghi e malattie. Abbiamo qui Michele che ci aiuterà in questa scelta e ci consiglierà i prodotti migliori. Come dicevamo l'utilizzo dei prodotti naturali a base naturale per la concimazione delle piante soprattutto sull'orto è molto importante. Possiamo utilizzare prodotti derivati da materie prime naturali e vegetali. E invece per proteggere e curare il nostro orto in caso di aggressioni da parte di parassiti o di funghi? Allora per proteggerlo possiamo utilizzare tranquillamente i prodotti naturali che hanno lo scopo di aumentare l'autodifese della pianta e quindi farci avere delle piante più robuste e più sane. Quindi meno facilmente attaccabili da parassiti ma anche da malattie fungine. Altrimenti quando poi interviene una malattia fungina o un parassita l'ideale è utilizzare comunque un prodotto chimico di sintesi che in breve tempo ci aiuta ad eliminare l'infestazione. Esistono prodotti chimici appunto con una bassa carenza. Ti interrompo un attimo, cosa sarebbe la bassa carenza? La carenza o comunque la bassa carenza è quel tempo espresso in giorni che ci permette di andare a cibarci, di nutrirci delle nostre verdure, dei nostri frutti in maniera tranquilla. I prodotti a bassa carenza hanno in genere 2, 3, 5 giorni al massimo di appunto questa carenza. Dopodiché noi possiamo tranquillamente mangiarli. Grazie a tutti.